Ricordate il tanto sospirato polo tecnologico che avrebbe dovuto creare una sorta di cittadella della scienza all'interno dell'ex area carbon? Ebbene, adesso scordatevelo, perché dopo gli studi di settore, i continui rinvii fra provincia e comune e la ricerca di finanziamenti, adesso l'idea sembrerebbe messa da parte per far spazio ad un nuovo progetto. Il sindaco Castelli, infatti, in un incontro con il presidente dell'ente fioristico regionale, Dante Merlonghi, ha ipotizzato la realizzazione di un polo fioristico e congressuale, con annessa a una struttura polifunzionale presso l'area carbon. E già, niente più progetto di ricerca e sviluppo, ma ampio spazio a fiere e convegni. Non a caso Castelli ha fatto sapere che il comune provvederà ad acquistare una quota nella società pubblica regionale che si andrà a costituire per la gestione degli enti fioristici marchigiani, un modo per non rimanere indietro e marginati. Una volta entrati nell'ente fioristico, è ovvio che ci sia bisogno poi di spazi adatti per ospitare fiere e congressi. E così, l'idea dell'area carbon potrebbe essere la risposta più giusta e, perché no, anche la più conveniente. Certo è che se il progetto dovesse andare in porto, bisognerà lavorare sulla costruzione di una nuova immagine per Ascoli, che da cittadina della cultura e dell'arte dovrebbe rilanciarsi come città congressuale, abbinata alla vocazione turistica di tutto il territorio piceno. Del resto, dice Castelli, da qui fino a Bari non ci sono altri poli fieristici importanti e noi potremmo colmare quel vuoto esistente. Insomma, per ora le idee sembrerebbero chiare. Certo è che il passaggio dalle parole ai fatti risulta un po' più complicato. Che fine faranno tutti gli studi costati fior di quattrini per realizzare il polo scientifico e tecnologico? E quanto saranno disposti ad aspettare i cittadini e gli ex lavoratori prima che la nuova realtà sia operativa e funzionale? Grazie. 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 Grazie.